Sono preoccupanti i dati diffusi dal Sunia in questo fine 2022 e gli sfratti eseguiti in provincia di Arezzo sono 160. Ci sono state 500 richieste di accessi e 160 già eseguiti. La cosa che preoccupa maggiormente, questi sono dati che arrivano ad ottobre, quindi la proiezione sicuramente va allargandosi, ma soprattutto analizzando quello che è il contesto attuale, quindi crisi lavorativa, i pensionati, i lavoratori e pensionati che hanno un reddito ma stanno diventando sempre più poveri proprio a causa del costo della vita, quindi il costo dell'abitare, il costo della casa. Tutto questo non farà altro che aumentare questi numeri. Il 37% di coloro che sono interessati da questo problema sono italiani, la seconda nazionalità è il Marocco, la terza, la Romania, persone tra i 40 e i 50 anni, con famiglia. Farei un inciso ancora più forte. Nelle ultime situazioni di bilancio a livello nazionale sono stati tolti i contributi a sostegno per l'affitto, quindi non so cosa succederà a breve, però è una cascata, cioè se non mi partano da livello nazionale, arrivare a livello regionale e a cascata sul territorio, quindi sarà una cosa che peserà sempre di più intorno a noi. Enti pubblici che magari hanno alloggi e li tengono lì, andrebbero ristrutturati e cercati di metterli a disposizione, cercare di risistemare anche alloggi che non vengono rimessi a disposizione per chi ne ha bisogno. Diamo sempre più spazio a segnalare questo problema affinché la politica non faccia solo che bei discorsi, ma si occupi realmente di quelli che sono i problemi, tra questi la casa, che è il nido di tutti quanti o di ognuno di noi.